L'appuntamento è dal 4 al 12 marzo ma l'orizzonte è triennale perché è impostato su tre anni il percorso di collaborazione tra Expo Casa, l'esposizione organizzata da Epta Conf Commercio a Umbria Fiere di Bastia Umbra e l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. È orgoglioso nell'annunciare la partnership il presidente di Epta Aldo Amoni. Dopo così tanti anni spiega c'è necessità di innovare per farne un evento di accresciuta importanza, punto di riferimento per l'Italia centrale. È sempre stato un bel evento, un grande evento, però bisogna cominciare a dargli una, secondo me, se ci riusciamo il mio pensiero era di dargli un aspetto diverso, un'importanza ancora maggiore, farlo diventare un evento sulla casa che prenda un maggior territorio a livello fuori dalle mura umbre e quindi dico sì, l'evento c'è, però da soli non si va tanto lontani è quello che dico sempre dei commercianti che rappresentiamo noi, che loro sono ancora convinti che da soli vanno lontano invece da soli chiudono, mi dispiace a dirlo, ma da soli si chiude. Bisogna mettersi insieme, infatti tutti i progetti che sono stati fatti, adesso mi sfogo perché sono sulla mia materia, i progetti che sono stati fatti a livello Umbria è di mettere insieme gli operatori economici. Quindi bisogna mettere insieme, bisogna anche qualche volta andare a qualcuno che conosce più di te, che conosce la materia e che sa, che è aggiornato. Allora dico, come l'ho conosciuto attraverso questa accademia, hanno sentito parlare, l'Accademia delle Belle Arti Pietro Pannucci, mi hanno detto che c'era quell'ingegnere Belardi Paolo che era un personaggio vivace che gli faceva queste cose, l'ho chiamato, l'ho chiamato e gli ho detto guarda, l'idea mia è questa, ho esplicitato l'idea, devi far crescere questo evento, devi far capire più alla gente quello che è la casa, perché la casa è il numero uno della persona, quando c'è la casa stiamo a posto. Poi adesso oggi la casa non si costruisce più, si si costruisce anche con i mattoni di cemento, ma si costruisce anche con altri materiali e questo noi lo vogliamo far vedere nell'Expo Casa che abbiamo organizzato. Quindi abbiamo questa sinergia, abbiamo fatto un bel programma, abbiamo fatto una bella manifestazione, ci stanno due o tre sorprese importanti, abbiamo coinvolto Degra che è un istituto di design del legno, perché il legno ci sta a fare sculture, stanno le sculture del legno e loro fanno le sculture del legno, non tanto la scultura che sta lì un albero laureato, è una scultura del legno che si può mettere dentro la casa come allenamento, come cucina o cose. Allora ci hanno aiutato, Franco e Giacometti siamo entrati anche in amicizia e volentieri ci aiuta, quindi diciamo insieme, penso che stiamo costruendo, abbiamo fatto un programma per tre anni, penso che stiamo costruendo un'Expo Casa a livello nazionale. Allora vi invito tutti a venire a vedere queste sorprese dall'ingresso fino a qualcosa che sta fuori di notte e che sta anche dentro nel padiglione numero 8. Con l'occasione ringrazio TRG che ci aiuta, che ci dà una mano nella comunicazione e vi faccio tanti auguri con l'occasione di proseguire nella vostra attività, io se quello che posso mi metto anche a disposizione, come ho detto ai vostri colleghi, ringrazio la Camera di Commercio che ci dà sempre una mano, ringrazio la Confcommercio che è la mamma di tutti noi, ringrazio come ho detto prima l'Umbria Fiere che ogni volta che chiede qualcosa la Presidente Pugliari è disponibile, quindi insieme a tutte queste persone possiamo fare qualche cosa di grande con l'Expo Casa e che dà lustro anche alla Regione dell'Umbria. Expo Casa dunque guarda al futuro di arredo, costruzione e ristrutturazione in partnership con l'Accademia di Belle Arti. Open Minds è il nome del progetto triennale, a partire da quest'anno dallo slogan verso nuovi mondi dell'abitare. I visitatori, il target vuole aprire ai giovani, alle persone di cultura si troveranno così di fronte a un'imponente porta d'ingresso progettata dall'architetto Pietro Carlo Pellegrini e poi installazioni anche a livello stradale, mostre, performance ed eventi. Il concetto è molto semplice, noi abbiamo dato una spallata, visto che siamo di gubbio, a cambiare decisamente questa iniziativa di Expo Casa. Abbiamo cercato di farlo, come dice lo slogan, rompendo i muri, rompendo i muri fra le discipline perché non si parlerà soltanto di architettura e ingegneria ma si parlerà anche di filosofia, di antropologia e di arte. Ma soprattutto rompendo i muri della casa. La casa oggi non è più quella cosa lì che tutti conosciamo, la casa oggi è qualcosa di più, è l'intero pianeta, che è il nostro pianeta, la nostra casa. La casa oggi è anche un centro di accoglienza, è anche una casa su un albero, è anche un riparo eremitico per pensare e per disegnare. Questo non si tratta soltanto di creare nuovi mercati ma si tratta di dare risposta all'uomo del terzo millennio che forse è cambiato. Ci sono installazioni, mostre, eventi, tanti appuntamenti culturali anche in uno scenario particolare. Sì, ci saranno molti professionisti, molti operatori, molti giovani e soprattutto ci saranno molte installazioni artistiche, ci sarà una porta come alla Biennale di Venezia, ci sarà una porta Expo, ci sarà una videoproiezione sulla facciata e poi ci sarà una piazza, Piazza Tecla, in cui si alterneranno continuamente dei programmi culturali di altissimo profilo, ci sarà lo studio Archea di Firenze, ci sarà Daniela Ducato dalla Sardegna e molte altre cose e poi ci sarà una performance degli studenti del Conservatorio, dell'Accademia di Belle Arti, dell'Istituto Italiano del Design che faranno delle opere in Corpo Revili. Per concludere, un'ulteriore apertura dell'Accademia al mondo esterno già testimoniata da tanti esempi in passato. Sì, un'ulteriore apertura e soprattutto un'ulteriore apertura al mondo internazionale perché noi parteciperemo con tutto il colore dei nostri studenti che oramai vengono da tutto il mondo. Un'occasione per gli amanti del design ma anche per curiosi e professionisti del settore fra le novità di questa edizione c'è Piazza Tecla, un'area riservata a eventi e incontri culturali di eccezione che metterà in evidenza le potenzialità delle costruzioni in legno che in Umbria hanno la propria ragione d'essere. Tecla di fatto è un modo di vivere, no? Nel senso che noi come imprenditori ma soprattutto come uomini cerchiamo di vivere la contemporaneità e secondo me è una chiave di lettura di un modo di fare impresa. Tecla costruendo, applicando l'ingegneria alle costruzioni in legno sostanzialmente vive una frontiera e l'esperienza intellettuale che quest'anno vuol vivere è l'esperienza della fiera di Bastia e anche questa è un'esperienza intellettuale perché vuol parlare linguaggi nuovi e quindi Tecla in questi contesti abbastanza rischiosi comunque si trova bene a fare impresa. Perché si può costruire il legno anche in Umbria, no? Si può costruire il legno anche in Umbria basta un pochettino rifletterlo perché se uno pensa che la casa in legno è la casa, la baita e non è quella la casa in legno ci saranno occasioni per spiegare un po' meglio che cos'è una casa in legno che le mie parole che non sono spesso e volte adatte. Expo Casa è da sempre uno dei fiori all'occhiello di Umbria Friere ha detto il presidente Lazzaro Bogliari la nostra struttura con bilanci inutili e forti dei 17 eventi ospitati ogni anno punta con forza alla dimensione extra regionale forte della posizione al centro del sistema Umbria.